In casa Napoli tiene sempre banco la questione legata al rinnovo di contratto di Fauzi Goaulam. Secondo quanto riferito dai colleghi della RAI, infatti, il terzino algerino avrebbe ribadito a Sarri la volontà di rimanere in azzurro, a patto però che la società porti il suo ingaggio ai livelli di quelli di Mertens e Insigne. Manca, però, l'intesa tra le parti, anche a causa di alcune fazioni nell'entourage del giocatore. In particolare, George Mendes avrebbe già trovato un accordo di massima, suggellato da una stretta di mano in quel di Monte Carlo, con Cristiano Giuntoli. Mancherebbe però l'ok con il fratello agente di Goaulam, i cui rapporti con la dirigenza partenopea non sarebbero al momento dei migliori. Grazie a tutti.